Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quei Due Sul Server 2 con Knack! Oh, non so che episodio è, sarà sicuramente il centoventesimo, però, oh, sta serie la portiamo a termine. Vediamo com'è portare a termine una serie come Knack. Vediamo che emozioni ci regala. No, più che altro, siccome la continuate a seguire, io non ho nessun problema a portarvi la serie. A volte, a volte, spero quasi che una serie non vi piaccia poi tanto così... ...sai, ne posso parlare senza che voi abbiate visto tutto, invece, per esempio, con The Last Guardian, no, voi vedrete tutto quello che ho fatto e quindi vi farete un'idea che io abbia bestemmiato tutto il tempo. In effetti è stato così, però non vorrei che vi faceste traviare dalle mie parole mentre gioco, perché giustamente la frustrazione è il sentimento più forte. Però, per esempio, in questo Knack, nonostante io sia spesso frustrato e incazzato nero, e me lo sto godendo, mi piace, è bello. Una bella bestia. Ok. Beh, adesso, adesso stiamo messi il cazzo. No, signori miei. Per forza, perché sennò non me lo levavo più di torno, quel bastardone. Qui è tutto spento, io sono tornato alla mia forma originaria, non è che si possa fare molto. C'era una doppia via, però, all'inizio di questa sezione di gioco, non so se ci avete fatto caso. Noi abbiamo scelto di andare avanti da questa parte, ma avremmo potuto fare tutt'altro percorso. Qualcosa mi sfugge. che ci sia una doppia scelta per davvero? Potrebbe. Potrebbe essere. Questa è una zona che ho già fatto. Eh sì, è una zona che ho già fatto. Ah, dovevo fare questo. Non so dove io mi sia ritrovato, ma, insomma, va bene. Va bene. Credo che questa fosse la prima zona, quella che ho saltato. E il level design in questa zona era tutto forché cristallino, devo dire. Non ho capito un cazzo. Dobbiamo accendere queste fornaci. Ok. Bene. Dobbiamo ripristinare queste fornaci che portano, probabilmente, energia a tutta la struttura. E poi ci fa ricominciare da qui, quindi adesso sono andato giù. Immagino che adesso qui ci sarà un cancello e, infatti, elettrificato. E adesso ci tocca fare la terza fornaciotta. Prima di procedere. Dobbiamo sbloccare... Tu, ahhh! Senti, ti devi togliere di mezzo, tu. Ok. Fanculo. Nooo! L'olio di merda! Beh, sta parte è tosta, eh. Si sono presi la briga di mettere un sacco di gente scassa minchia tutta insieme. Niente, non sono neanche rinati, non sono responati i nemici. Chissà perché. Molti mi hanno detto nei commenti che la parte finale di Knack è particolarmente stronza. Però, staremo a vedere. Questa profuma di parte finale, o perlomeno profumava di parte finale già da un pezzo. Ma non mi aspettavo fosse così longevo il gioco, eh. Sapete cos'è stato a convincermi a comprare questo Knack? Il fatto che costasse pochissimo e il fatto che fossi al mio primo mese di PlayStation 4. Cioè, volevo dei giochi nuovi di PlayStation 4. Non mi sarei mai aspettato di andarmi a recuperare un classico, praticamente. Sta per uscire a Knack 2. Molti me lo hanno scritto nei commenti, me lo stanno dicendo nei messaggi privati, eccetera. A me la cosa fa molto molto piacere, devo essere onesto. E che cazzo! E non vedo l'ora di provarlo. Perché se sarà all'altezza di questo, ma con... Qualche accorgimento in più. Saremo a cavallo. Mi sono fermato un attimo perché ho sentito tremare il pavimento. Ancora. E ancora. Ragazzi, forse devo andar via. Questa è la un'altra cosa. Questa è una un'altra cosa. E anche la città. No, non è un'altra cosa. Questa è una cosa. Grazie.